Arbitro dai frischia all'inizio, che c'ho voglia di pesce Arbitro frischia! Arbitro frischia! Ciao ragazzi, bentornati sul canale di Enzo Playst Enzo Come state, giovani? Noi siamo la nuova società del foggia calcio Potete vedere, siamo in due per questa occasione Stiamo mettendo su un progetto Clamoroso Clamoroso Mi raccomando ragazzi, vi voglio carichissimi Dai, ora vi facciamo vedere un po' di cose nuove Vi mostreremo le nuove magliette ufficiali Andiamo a vedere, vai Ok giovani, eccoci qua Eccoci qua, nuova stagione, iniziamo subito con l'Udinese Ragazzi, le divise nuove sono spettacolari Ve le faccio vedere subito Ve le faccio vedere subito, allora Vai, vai arbitro, vai, vai, vai Mamma mia ragazzi, sono emozionatissimo Eccoli, eccoli Eccoli, con le divise nuove Udinese sono forti, ma non per questo dobbiamo avere paura di loro Giusto? Guarda Fabio Silva, guarda Fabio Silva Mamma mia Va bene Aspettiamo, le faccio vedere bene qua Guarda, guarda Due Poi ho preso cistana Bela, difesa molto italiana, molto italiana Ho ripreso Larsen come terzino Masina a sinistra Gardner era nostro Mor in prestito fino a gennaio Isikierdo nostro Ho preso Diego Trequartista Vietto E poi vabbè Il capellone di Foggia Fabio Silva Che V di caffà Poi ho preso anche Oriol Busquet In panchina Paslak l'ho preso per le fasce Poi Mattias Fernandez ho preso Junior Moraes Però in realtà lo voglio vendere L'ho preso dal vivaio Poi ho preso Van Hanolt Terzino sinistro E Guti Rez Questo lo voglio vendere anche Andiamo subito in partita Vai su Senza perdere team I giovani stanno tutti bene Quindi iniziamo così Vai Eccoci Eccoci qua Mamma mia ragazzi Che emozione Che V di caffà Guarda là Guarda là Uuuu Guarda new bell Guarda new bell Bello Si è cresciuto in Doria Va bene dai Mamma mia ragazzi Quest'anno Quest'anno voglio l'Europa League Ce la metterò tutta Punterò All'Europa League Speriamo Speriamo di farci Ecco le nuove divise Adidas Bellissimo Via Via E' iniziato E' iniziato il nuovo campionato ragazzi Sono emozionatissimo Il ritorno di Larsen Vai Eccolo subito il capellone Il capellone di Foggia Oh ma sto masina sulla fascia Sino bello Bello Attenzione Larsen Mamma mia Attenzione Fabio Per Diego Non va Ah ragazzi Sono riuscito a prendere Molti svincolati E quindi Più o meno Abbiamo una squadra Che resterà questa Più o meno Molti resteranno Fissi Se ne sembra è morto Rigore Ma Era rigore Era rigore arbitro Te lo voglio dire Oh bello sto rossettini Attenzione Embra è morto Fabio Silvia Attenzione Mamma mia Mamma mia che uno due Bellissimo Bellissimo E raga Fabio Silvia è nostro E' proprio nostro Quindi Sarà una bandiera Foggiana Praticamente Mi si chiedo in mezzo Madonna mi Peccato Peccato Vabbè Arbitro Non ti preoccupare Mremor va via Mremor va via Vai Fabio Silvia in mezzo Vai Vai Diego Mette in mezzo Vai E raga La squadra è Cambiata Quasi tutta Comunque Quindi Come al solito Si dovranno Ambientare Attenzione Attenzione Occhio Larsen Mamma mia Pietto Mamma mia Buona Si vede che la squadra E' bella Hai capito Rossettini c'è Mi piace sta cosa Della difesa Tutta italiana C'è Tutta italiana Quasi tutta italiana Raga Maldini è andato a finire In panchina Purtroppo Giocherà Giocherà Comunque Però Allione Non lo vedo Prontissimo Non lo so La scorsa stagione Non mi ha entusiasmato Tanto Vabbè Ancora giovane Deve crescere Ancora Però per il momento Non è ancora Prontissimo Purtroppo La terra Non va Non va Buona Buona masina Occhio Occhio all'angolo Rossettini Sempre lui Sempre lui Bravo Rosso Urush Occhio Occhio Buono Ragazzi ma avete notato Lo sponsor Liveto Aspetta Mo ve lo faccio vedere Meglio Aspetta Aspetta A parte lo sponsor Borghetti Ma poi Lo sponsor Liveto Dietro Che colpo di stile È entrato Maldini Non me ne ho accorto Vai Continuiamo Vai arbitro Ma di sicuro Non la lascerai mai Questa è foggia Vai È entrato pure Junior Moraes Al posto di Vietto Dopo mancano dieci minuti Buona Garner Maldini deve dimostrare di più Quest'anno ragazzi Perché Non ci siamo L'anno scorso Non mi è piaciuto Mamma mia Rischio 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 È New Bell Vai La partita è finita Praticamente Vediamo se riusciamo A fare un'altra azione Anon Benz Occhio 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 Boh Meno male Meno male Butta avanti New Bell Butta avanti Vai È niente Niente Non va Non va Attenzione Attenzione Ci stanno Deve chiudere Bravo Bravo Però Attenzione 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 È finita Praticamente Finita Finita 0-0 Ci sta Bellissimo Bellissimo Bella partita Come prima partita Ci sta Squadra Quasi tutta nuova Perché guardate 1-2 New Bell Ci sta Rossettini Masina Larsen Diego Ego E Fabio Silva Più di metà Squadra È nuova Quindi ci sta Che si devono Ancora ambientare Un bo Un bo Un bo Poi l'Udinese Comunque È anche abbastanza Fastidio Sai come squadra Vabbè raga Io direi Di fermarci qua Ci fermiamo qua Per il momento Troppe emozioni Tutte insieme Poi non vanno bene La prossima sarà Coppa Italia Cristiano Ronaldo C'è un graven gen Io non lo so Come fa Teno 45 anni Qua L'elluccia Si beve il cappuccino Qua Ah no C'è ancora la serie A Torino Va bene Va bene Guardate gli sponsor Là in basso In basso a destra Vabbè ragazzi Quindi fermiamoci qua Ovviamente Che ve lo dico a fare Fatemi sapere Cosa ne pensate Delle nuove divise Della nuova squadra Dei nuovi giocatori Della nuova stagione Madonnami Vi aspetto ragazzi Vi aspetto E ci vediamo Un prossimo episodio Del Foggia su Persi Stavolta non ci fermeremo Faremo su serio Ciao giovani Un bacio da Enzo Play Stenso